Ballando on the road, dal 26 febbraio su Rai 1 con Milly Carlucci Ballando on the road, dal 25 febbraio su Rai 1. Milly Carlucci presenta quattro puntate del tour realizzato, lo scorso novembre, attraverso l'Italia alla ricerca di nuovi talenti nel ballo nell'attesa che arrivi su Rai 1. La tredicesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci propone, sempre su Rai 1 la versione itinerante dello show, Ballando on the road. Si tratta di quattro puntate in onda a partire da oggi lunedì 26 febbraio, alle 14.00 nel pomeriggio di Rai 1, in cui Milly Carlucci, i suoi maestri e i giurati storici hanno incontrato e selezionato persone comuni provenienti da tutta Italia. I migliori entrano a far parte della grande famiglia di Ballando con le stelle. Durante tutta la settimana il daytime pomeriggiano di Rai 1 è occupato da Ballando, fino a giovedì con la versione on the road, mentre venerdì va in onda uno speciale dal titolo Aspettando Ballando con le stelle. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 14.00 e si concludono alle 15.15 quando la linea passa alla vita in diretta. Ballando on the road, la selezione dei partecipanti nel corso del tour attraverso l'Italia, sono stati selezionati 53 partecipanti ma si sono presentati più di 10.000 amanti del ballo tra gruppi, coppie e singoli aspiranti ballerini. Dalle quattro puntate dovranno essere selezionati gli otto finalisti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle per essere protagonisti di un torneo parallelo, una sorta di Ballando Nip. Agli appuntamenti pomeriggiano ci sono, oltre Millie Carlucci, i giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino e Antonio Fini, il presidente del Festival Internazionale della Danza di New York. Saranno presenti anche alcuni dei maestri più conosciuti dal pubblico che si propongono nel ruolo di presentatori, giurati e performer. Si tratta di Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Stefano Radei, Vera Kingunen, Anastasia Puzmina, Ornella Bocafoschi, Marcello Nuzio e Raimondo Todaro. In ogni puntata saranno selezionati due concorrenti, sarà Antonio Fini a scegliere tra i quattro candidati, uno per ogni giurato, più quello scelto dai maestri. Ballando on the road Che cos'è ballando on the road è un'esperienza nuova introdotta da qualche anno dalla Carlucci. Il fine è di dare spazio alle persone comuni che amano il ballo ma che hanno anche una storia personale da raccontare. Alle prove si sono presentate persone di ogni estrazione sociale, grandi e bambini, tutti niti dalla per il ballo che spesso ha aiutato a risolvere molte situazioni difficili. Ne viene fuori uno staccato di vita italiana molto variegato, anche divertente, ma profondamente umano. Il programma è prodotto dalla Ballandi Multimedia.